Alla Regione ogni anno arrivano conti salati per danni all'agricoltura e da fauna selvatica, ma se i primi si pagano in base alle disponibilità finanziarie, secondi se si arriva a sentenza di condanna si devono pagare per forza. Circa 3 milioni di euro l'anno si stima, o almeno lo fa l'avvocatura della Regione, per danni all'agricoltura e per incidenti causati dalla fauna selvatica. Per il 2023 le somme stanziate ammontano a quasi un milione di euro, una parte riservata esclusivamente a risarcire i danni causati dagli animali protetti al fine di migliorare la convivenza e ridurre la conflittualità con gli animali circa 100 mila euro. Per il risarcimento degli incidenti stradali la Regione ha stipulato polizie con società del settore che coprono la Regione dal rischio di risarcimento diretto. Per le spese connesse, che sono premi e pagamento delle franchigie, la Regione spende annualmente circa 1 milione e 400 mila euro. Per gli incidenti al costo delle polizie deve aggiungersi quanto dovuto per la soccombenza in giudizi instaurati, in periodi nei quali non era attiva l'assicurazione, un importo di difficile quantificazione. I dati li fornisce la Regione stessa. Dire però che la Regione abbia una responsabilità sostanzialmente equivalente a quella del proprietario di animali domestici o in cattività è un assurdo giuridico per loro. Gli animali che principalmente causano incidenti stradali e danni alle culture agricole sono i cinghiali, ma in alcune zone del territorio abruzzese sta crescendo sempre di più la presenza di cervi e caprioli. Gestire la fauna selvatica è una cosa non semplice, comunque la Regione sta facendo molto per cercare di contenerla. I numeri dei cinghiali abbattuti grazie all'attenzione della Regione e la collaborazione della Polizia Provinciale e dei selecacciatori volontari è un aumento. I cinghiali prelevati nella stagione venatoria 2022-2023 ammontano ad oltre 12.100 capi. La Regione inoltre sta predisponendo il piano per la gestione dei cervi e dei caprioli che spia auspica possa essere attivo all'inizio del 2024. Il tema è tornato di attualità dopo una sentenza che stabilisce che la Regione a dover pagare un motociclista rimasto ferito in un incidente con un cervo nel 2018 e ben 400.000 euro, perché per il giudice l'incidente non è fortuito, si poteva evitare e il giudice tira in caso la solo Regione, non Anas e Provincia, a quanto parre per la proprietà degli animali. I cervi liberi insomma sono considerati loro. L'avvocatura probabilmente si opporrà a questo principio.